benvenuti su un nuovo episodio allora andiamo subito a vedere il buon fable un attimo avanti non lo so in realtà dove arriveremo non ho proprio idea allora andiamo avanti con e ball ok nella chat e gente come te che rende miserabile il mio lavoro oddio eccolo allora altra volta era eravamo arrivati non so dove in realtà non ho proprio idea e no quindi andiamo avanti con il gioco perché si deve spegnere il telefono madonna vittorio cellulari allora andiamo avanti non so cosa devo fare è passato un bel po cosa è successo dio cos'è sta roba scava ma bisogna scavare i cani aspetto subito allora scaviamo ma come scava grande una collana arrugginita finchia puoi trovare libera a destra il tuo cane no mi interessa adesso è il cane 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 ciao tizio ma dove siamo allora andiamo avanti vediamo un po ok andiamo avanti vediamo un po oggi che cosa facciamo di questo gioco perché non farti vedere da nessuno proprio a me lo dicono a me ma siamo sicuri io odio queste cose qua figure mi vedranno a chilometri ok allora dove devo andare il mercato ok meno male che ho questa cosa che mi indica dove devo andare capo chi è un uomo sc tipo faccio il maleducato ah ho un regalo per te hai un regalo per me grande dai allora dai mi piace il mio regalo una collana economica ma perchè la bombina aspetta hai insulto no perché dice le guardie studia devo proprio a far questo gli faccio una puzza addosso e ridono tutti ma perché fa ridere ma perché fa ridere fare le putte ma non fa ridere non posso provarci con la bambina ma lo ducato aspetta no più in giro la bambina tanto sono bambini giusto i soci però è vero allora questo chi è questa signora non avevo visto che eri lì non avevo visto che eri lì non è fantastico queste persone sembrano tembrano felice giusto sembrano scusa amore non badare a me mi chiamo alex sono certa che sei una persona gentile in questi giorni non mi va proprio di parlare allora perché mi stai fermando mi sta importunando i negozi stanno facendo delle piccole svegli comincia a scusarti cosa perché non è possibile ma io non voglio sposare ma stiamo scherzando ai colpo vai a caso vai e ammorata esamina proprietà va che valgine ma nooo ma io non voglio perché message oh andiamo a provare con questo vabbè ti provo poi la butto giù dalle scale così mi è ridito amato cos'è si sta lavorando di me il barista ma io non voglio il barista fa schifo regalo allora cosa ci regaliamo a questa qui aspetta una bella collana questo pazzesco guarda è un bel pensiero è un pazzesco a sposarmela vieni vieni qua ma non si fa ciuf ciuf in questo gioco cosa vuole questa attenzione su mi porta in camera un po' se riesco ma qua c'è un letto vai vai dai cosa c'è no rupa ma come rupa dov'è sta qua vai signorina venga in camera e facciamo ciuf ciuf dov'è la signorina andata via ma dove è andata andiamo qua forse qua forse quindi salve sono di nuovo io la tua cliente preferita ecco molto buono molto buono eh vabbè i miei bambini parlano sempre di due avventure oh oh ma in che senso abbiamo sempre tempo per te continua innamorata eccellente non farci perdere tempo seguimi non avere fretta ce n'è per tutti ok andiamo andiamo dai sono da qualche parte quindi oh dov'è la signorina però volevo una stanza perché non c'è una stanzina spiottolo o qualcosa del genere che bello qui aspetta che bello dov'è che bello mi dici che bello ma perché scusami ti chiama ancora quella lorda lì questo è il miglior posto del mondo ancora rompete il cazzo senza motivo amica ma basta ma che cazzo ma ma tu c'hai le prove no eh certo mi piace e mi piace questo posto geniale devo fare a scusarmi oh no 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 so già che non mi piacerà affatto che spettacolo te la meriti tu mi hai ricevuto un messaggio che avevo mandato io ma va ma dai ma questa è proprio una lorda ce l'hai quasi fatta di sicuro con un altro po' di fama sarai a posto mi piace e mi piace questo posto ehi ecco passerotto come va che dolce ma una luminola nooo ma come questa qua andrebbe bene cavolo non so il suo povero ci siamo quasi con la fama un po' di persone parlano delle tue gesta ma non sono ancora abbastanza a volte vorrei essere di nuovo all'accademia i migliori anni della mia vita vai ci proviamo ancora splendido ci sai fare eccesso ci so fare non so mica becco come voi eccellente nooo vabbè che colpo sei nato malvagio o ti è successo qualcosa i negozi stanno regali bella collana ci diamo questa dai ecco questo è notevole mi piace orario di più ci sai fare per tutti i negozi ehi grazie se la sposassimo e poi a caso finisce giù dalle scale wow che figo allora eh però vorrei fare le missioni non perdere tempo con questa qui rituale ok mi scrive su telegram ancora col gruppo di formula 1 grande ok quante missioni ma eh sì però cosa qua di sposarmi non era male penso che sia previsto che la coppia la prima sera di notte dopo che ha firmato l'eredità ops boh ah ok no pensavo beh io lo farei è un lavoro è un mestiere mi dissocio Twitch però io no come no perché no io lo farei veramente ma no ma sì ma mica per escegli chi è questa ancora oh ma è qui è questa attraente hai capito vabbè perché mi faccio prendere beh prendere cavolo hanno lo stipendio fisso stipendio fisso fanno con le zone meglio di così a proposito dove sta sta EBIT oh ma mi sta seguendo mi sta solo ci uccideranno tutti devo ancora trovare spiacente la missione per un avventuriero esperto ah io devo ancora trovare qualcuno di import oh questo non posso ancora farlo missioni e ma beh quindi posti lavoro stendite io voglio fare missione tempio delle ombre questo l'ho già fatto lo scultore qui tra comunità dai tante non ci sono poi così tante malattie considerato che non ce l'abbiamo mai e come faccio a sposarmi ma prima di tutto ci vorrà una casa intuisco ma non c'ho soldi sono povero ah 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 sono povero ah ok quindi sono povero ok benissimo già benissimo fa di male però ok questa è rimasta con me guarda bravo manico ma va va se ne va non sei stupido via va va Guarda i lati che mi vengono illuminati Nooo! Sto picchiando la mia volta! Guarda la mia fortuna voi! Ah, ma Alex è quella! Uh, è vero! Quella che devo proteggiare! Mi spazio! Oggetti, scusate, oggetti? Non quelli che mi... Varie pozioni, ok. Nooo! Mi hanno ucciso! Ma come? Perché? Nooo! Ma, mi sa che... Oddio! Che è sto qua? Aiuto! Aiuto! Atento! Ma che altro colpo ed è finita! È troppo forte, come è questa storia? Ma scusa, forse devo andare dal fantasma di... ...missioni. Ma al fantasma di quello non ci posso andare ancora. Eh, ecco. Ok. Ritiamo da quello lì che forse devo andare dal fantasma di questo qua. Mi sembra strano, sono fortissimi questi qua. Mi hanno picchiato in maniera proprio selvaggia. Ok, quella lì, diciamo che è abbastanza... Mi ero dimenticato che devo provarci con quello. chiusi... Un bel pro Еще... ...ma un bel progettivo! Un bel progettivo sulla un foglia! Un bel progettivo! Un bel progettivo! Un bel progettivo! Un bel progettivo! Ok, vediamo Chi è questo? Scambe tutto Non mi ricordo come scambe tutto Non mi ricordo più veramente come Ah ok Rianima, aspetta rianima Ah Ah Devo casti due, vabbè ma Cos'è sta roba? Che cos'è? Chi è? Lampo Eccolo qua Scusa se mi sono comportata così Non mi sono mai perdonata E mai, mai ti ho dimenticato Ehi Cosa? Ti amavo così tanto Anch'io ti amavo È morta? Forse è la nostra seconda opportunità Oh Perché è morta? Tu È colpa tua se adesso sono morta Nooo, è morta Che cosa fai qui? Ammettila È stata un'idea tua, vero? Volevi solo vendicarti Ma come è morta? Ma cosa ha fatto? Sono stessi briganti mentre Ero sconvolto Non è facile Vendetta Vendetta vera Puoi livellare Non voglio rivedere mai più Nessuno dei due Io cosa c'entro? Ho mandato lui Aspetta Nooo Eh vabbè Vendetta vera Come si livella in sto gioco? È veramente una bestia Non va 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 Tato Ho il cane 4000 Vabbè Avvi Prontà Forte Vorrei fare qualcosa tipo forza Ma non so Tiri brutali Oh Mamma Forza brutale Ce l'hai fatta Quasi tutti a Oakfield Sanno qualcosa di te Ora puoi fare ritorno dall'abate Ah abate Eh basta Eh basta Si l'entra Eh Vai di Lascia stare i cani Ah ok Posso far così Sta bello però Figo Che figo Posso fare Ah ok Dai Che legati Che legati in questo mondo di ladri c'è ancora un gruppo di amici no, ah ok, non è quello però cavolo, mi pareva ah, adesso ma stiamo andando dove adesso? alla base? eh, basta, cosa sono sposi? ah, dai mi hanno picchiato di nuovo caz, va a sperare 5 punti di esperienza Ma quanti banditi ci sono qui? Ah vabbè Ucciditi E basta Guarda guarda questo, come hai resistente? Non è mai finita Avanti su Ammazza che Ho trovato un bel suono Mazzà Che cos'è questo? Oh Ah che cavolo Ok Potevo fare il miglioramento Azz Ok Vediamo un po' Ora potremmo andare dall'abate Però cavolo sto facendo tutte missioni positive Ma non vuoi Fare negative Ma infatti non le voglio fare positive E quella di prima è negativa anche se Aspetta Ok Forza Abilità Forza Ok 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 Cucchiere Cucchiere Cosa è? Fa? Missione? Oh che bello Me lo posso dire Ma che bello Questa è Questa è aspetta ora oi qui è perdi ahahah 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 yes ahahah ahahah ahahahahah non voglio morire Oddio, l'ho mai uscita! Ma dai, che palle! Che palle, non puoi eliminare i bambini! Andiamo un po' più avanti Awww Oh-oh! Dio! Divisa la comunità, dai! Va bene, per ora sei libertà di un certo! Ehi! Fate, prima che perdano la pazienza! Ehi! Ma non si può fare in questa società, spero! Ho fatto una bella colazione! Ah! Ho preparato lo stomaco per una nevuta storica! Mi stai facendo arrabbiare di... Nooo! Vabbè! Ma cosa c'è di buono? C'è una stanza, eh? C'è la camera? E poi potevo portarla qua! Qua lì, prima! Con la lorda lì! No, c'è una stanza qua! Ehm... Parista! Naturalmente! Quello che vuoi! E' vero che tra poco verrai eliminato, lo sai? Se volevi spaventarmi, ci sei riuscito! Troppo! Dai via, tu! Volevi fare il furbo, eh? E adesso niente più bar! Vai andiamo, cane! Guardi! Ecco il criminale! Loro che tolto! Ehm, ecco il criminale. Non, è vero! Non sono criminale! Ah... Ehm... Ehm... no vieni qui criminale vaffan eh beh ciao sei tornato presto malvato hai visto? tu vuole fuoco con me addio che sciocchi pensavano davvero di prendere è arrivato no chi è questo? oh Rosalia perché mi hai lasciato? ma chi è questo? hai scolpito il tuo nome nel mio cuore di pietra solo per... nooo ma chi è uno che è innamorato di una persona? ci sono i grandi segreti ho detto che non hai più incontrato un amore puro come il mio è un demone della porta ok ah io? io devo andare al posto moglie e lui guarda vabbè è tutto normale di questo tempio però vabbè ah io? ah uno ok vabbè la mia ma io non ne ho io ne ho io ah vuol vedere più avanti ah ma lui oh dio fermate quell'uomo nooo eh servizio raccuita ah 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 una donna di farci ah ah bene e vedi di fare il tuo dovere teologo scultore per posti di lavoro taglia legna munino ma che barbo no non credo però eh perché cosa non posso fare di niente? fischietta nooo ma non voglio ma quelli sono quelli di prima di picchia dici ho delle armi un po' meglio e spada a luci andiamo ah 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 e vabbè stavate lì da solo non potremmo mica lasciarlo da solo Aspetta, ah, di qua c'è il Tempio Oh, ebbè Dai, adesso non puoi rifiutarmi, Pipo Sei tu Ho pregato che ritornassi Ma se è tutto il gioco sto cercando No, non credo Penso che ci sarai di grande aiuto No, non credo, fidati Dai, cammina un po' con me Io? Dov'è? Siamo finta che mi... Dai, su, andiamo Dai Questo è un po' che bello, sai? Dunque, per nutrire la ghianda dorata Serve l'acqua sacra della fonte della luce Ma la fonte si trova in una grotta vicina Che è abbastanza pericolosa Esatto I testi sacri dicono che devono entrarci due monaci Uno è il più forte Il secondo lo sceglie l'abate Ovviamente la cosa mi preoccupa In particolare perché il più forte è mia figlia Come è tua figlia? Quindi, invece di un secondo monaco Ho scelto una guardia per il primo Potresti essere tu Se ti interessa Sì, sicuro Hello Hello Welcome Ciao, quindi Welcome to my channel La caverna si trova in fondo a lei Ok Il primo eroe ci attende Anche se ancora non se ne accorge Oddio, ma dove dobbiamo andare? Non so dove andare Ah no, aspetta Là c'è C'è il Cos'è sta roba? Oh, ma è un'alveare? No Ah no No, non so alveare Ok Ok, ok Le tracce 200% Ok Ok Siamo avanti Cosa sono? Oddio Ma sono gli insetti Ok Non è che danno tanta esperienza Però Chi è che sta cantando? Dietro alle canne Erbe che ha i raggi di luna sbocciate I sogni portate Ecco la che canta Dietro alle canne Ah, eccola lì Un sentiero con duce No, non è vero Abanshi che soffian Andiamo Non credo Nessuno sente Non credo sia quello Sapevo che la mia voce avrebbe ammaliato le folle Ma questa beve pure Ciao Saresti la mia scorta Mi hanno detto Mi saresti venuto Thank you Thank you I'm Italian Ciao piccoletto Ciao Ma sei davvero bello e forte Lo sapevi? Preferirei che venissi con me Nella caverna Troppo parlo Non parlo benissimo l'inglese Sono un po' fuori allenamento Peno male che c'è Jack che mi traduce Alcuni mi chiamano Hammer per fare gli spiritosi Non lo sono Ma non posso farci niente I monaci fanno voto di non sbancare la faccia a nessuno Non si parla in inglese Mio padre te l'ha detto? Sì Però Se c'è una battaglia là dentro è tutta tua Serve un eroe non una monaca pacifista Dobbiamo darle una ragione per lottare Devo ammetterlo sono un po' invidiosa Tu fai la parte più divertente A me tocca portare in giro questa cosa come un mulo Dai dagli un'occhiata No è anche io che mi traduce D'oro o meno Quanta acqua serve a una stupida ghianda? Prego Ok Ok Let's find Thresh and Wars Esatto vero per ishrou anche se ho sbagliato sicuramente questa cosa è veramente a un attimo che sto attimo vedendo messaggio allora adesso ora cominciamo a fare cose dobbiamo continuare allora andiamo avanti con gioco no no come a teoria ma teoretti e teori shift schifo anche se non si può dire però però a me non avevo fa io sì invece io li posso fare cosa è pesante poi dei game it's fun il fan quindi abbastanza divertente quindi animati ma avanti ma vediamo cosa c'è da fare in realtà ma se questa non gli voglio far niente esatti si era lo so e le gratte lavoro lavoro capito anch'io un po capirsi perché non vengono mai persone ma cosa è scritto i it's game it's fun abbastanza divertente no non so cosa è scritto credo che un paladino che aiuta chiunque sì puro esatto esatto ah sì vabbè no ma non è vero non è vero è il contrario ma no al contrario no non è vero allora andiamo di qua ho vinto un errore no 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 il mio personaggio mai charter come posso dirlo is bad cattivo credo di aver detto bene ma in realtà non credo di aver detto male is evil allora so mi schifo è avvio carter è avvio carter invid ma fassi oh yes ov course forse fu fuck Ora basta My enemy is My enemy is Is there Nooo No, ancora è durso qua Oh, is hard No, no No, quella lì c'è la sua Una certa persona Andiamo a vedere cosa potrei fare No Ma sì, anch'io prima o poi Acronia Non c'ho niente Sono io che non parlo bene Perché da tanto che non Poi non ho questa cosa Di parlare altre lingue Quindi faccio fatica Per fortuna che mi traducete Cerco anche io un pochino Di parlare E basta Fortuna Tra io che riesco Un po' così Poi ci si fa capire Dai Poi i giochi sono Sono effettivamente Sono andato Un modo anche per Che è Il Corriere di Amazon Io mi sono iscritto anche perché Io poi amo Cercare i video di animali Di live Dove sono tutti gli animali C'è la sezione apposta Infatti amo un sacco Io se Se live Quindi mi sono iscritto Io ho apprezzo un sacco Gli animali Perché sono più Più importanti delle persone Per staff Ma quella c'era il Perché non l'hai fatto? Eh devi aspettare un po' E l'hai messo di in don da poco Lo metto io E beh Io è da buona tifosa Ferrarista Mette Giustamente Mette Mette Quello Della Red Bull Grande Sì 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 Mette quello della Red Bull Pare giusto Non va Ok Ok Let's go Addosso No Ok dove siamo? Non so Siamo in città forse Ma Siamo in tutti Mamma mia Ma il te lo riconosco ancora Beh no Infatti Vabbè Cavolo tu Superstaff Io non posso dire niente Dai Anch'io Da non esperto di Formula 1 Pazzesco quello lì Eh se non è bravo è bravo Giusto Oddio bisogna scavare Ma infatti Hamilton No io proprio non lo sopporto quello lì Piuttosto Russell Ho Quel poco visto Mi è piaciuto un sacco Russell Cavolo Ragazzino In gamba Quello lì Lui Leclerc Sainz Ricciardo Eh non lo è Ricciardo sì Anche sì Non lo so Io non sono così esperto In Formula 1 Sainz Ho visto Russell E poi è veramente bravo Cavolo Eh lo so Eh l'influenza Eh ma neanch'io infatti Non ho sporto neanch'io Guarda Infatti a me non piace proprio Hamilton Non fa per me Allora Dai Vediamo un po' Vuoi dormire in una locanda Ma no E scappano tutti Scusate Sorry Scusate Per lo spadiglio Io sinceramente Non sono Molto Ma poi Si immagini Tanti bravi Eh Ovviamente alcuni Sono veramente bravini Ah e poi mi piace all'osso Quindi ho visto già all'osso E anche nelle vecchie gare E mi piace un sacco all'osso Ma uno veramente all'osso Pintosto eh Scusate Manco come pilota non mi interessa oi ok vai svenite ma non voglio le svenite basta oh via in avanti nooo ma questo è spero si sei ferrarista assolutamente guarda che inserchio che nemici che nemici ferrarista d'occhiere cavolo però il cesare è qualche di cesare che ero strano di pirati ora mi picchiano più che mai mi sto divertendo oddio oh mio dio nooo questi mi picchiano mi picchiano male ecco mi picchiano male ecco ah mi hanno picchiato è quasi troppo facile vero ragazzi non lasciarmi scudellare così se fossi più veloce non ti bloccherebbe ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua forza e basta o no non lasciarmi atterrare buono a nulla ora sarai pure in vantaggio ma non durerà prendi tu la peste si oh chissà che è male ecco qua ti è la comunità mi è andato bene fisico ma posso fare fisico 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 o aumenta in maniera significativa potentissimo non andare a dormire qua e io vorrei vabbè ho capito ma io devo riposare che è questo non hai alcun rispetto per la vita della gente no la mia proprietà carrozza di zing lo compro dai che figo l'assassinio e mia proprietà quindi ora informo devi portare le scato fisico esatto e di olivia newton jones era quella che è mancata da poco messi un pazzo da da poco purtroppo no è morta e oliva newton jones ah vai via dalla mia proprietà non voglio morire no io niente io come nulla non faccio niente assolutamente poi ti permesso puoi sparare alle spalle proprio ecco qua signorina ma perché scappate ma scappano tutti qua ora scappano tutti ma qualche piove di brutto sente tuonare malamente tuonare ma come questo è il vero inverno qua oh c'è una persona lì che ci fa questo qui aspetti per me eh c'è la pistola incredibile e bambini ok ho fatto il servizio per la comunità che figo no no dove va questa ammazza che corso che fa criminale criminale ora sei mio non evitare le tue responsabilità o la pagherai ahah ecco foto da eroe col canotto domani dici non credo come no ah eh si mi può darsi allora mi può darsi mi può darsi mi può darsi il giubbotto sì quello lì serve sicuro proviamo no no perché fiorina ma perché sta scappando devo che eri innamorata magari lo trovo giù non credo che congiri non credo ah si l'ho detto stamattina di genova ma perché ha intenzione di mettersi una cintura speciale a boom ah ah infatti infatti arriva il tuo servizio alla comunità si è sicoperto e un mantello e un mantello dovrebbero darci degli stivali migliori marciare con questi affari così duri è difficile non sperare di sfuggire alla libertà condizionata ti tengo d'occhio incredibile l'omicidio fidati hai scelto la persona sbagliata oddio signorina eccola qua signorina che fa bene regalo alla fanciulla una collana economica ok sì buono mi piace bello grazie mille sei davvero gentile ma certo dove si va scusa ma che tu sappia dov'è che si può andare a casa tipo portare a casa c'è una svendita qui vero ho comprato una una roulotte dei zingari 800 monete c'è un letto sì ma c'è un modo per arrivarci rapidamente questo vuol sapere ogni volta devo fare questo delirio eh per ora ne ho una eh non c'ho da pagarmi l'altra viaggio rapido e dov'è non lo so se mi asseguaci boh penso di sì oggi seguimi ma come si fa a fare viaggio rapido è disgustoso ecco mi piace copri capo il lotto meraviglioso non fa troppa paura si riguida però non c'è il viaggio rapido come mai no questa è la cosa più romantica che abbia mai visto fantastico no no Sì, sì. Oh, wow, grazie. Ma scusa, come si fa? Forse di qua. Ah, sì. Ok, ci dovremmo essere. Ok, ok, ci sono. Sì, bene, e quindi... Chi è questo qui? Oh, aspetta, come si... Dove cavolo è più appunto la mia casetta? Ma che è questa? No, ma è questa qui, non è casa mia. Questa qua dovrebbe essere. Ok, non è questa. Ma che è la proprietà? Non hanno ancora risolto l'omicidio? Come al solito. Quindi? No! No, non è questa. Ma dove cavolo? Ah, forse questa qua, sì. Ah, ok, questa qui. Quindi? Abbiamo votato. Vattene. Non intendo guardare. Me ne vado. Regali, gli diamo una collana a bugio. Tordo! La cosa più difficile in natura. Perché questo è l'unto con me? È un bambino carino. Magnifico! Com'è che mi tolgo sto qua dei piedi? Non lo voglio sto qua! Basta! Non lo voglio sto qui! Oh, bello! Devo dire che mi piace molto. Non mi importa cos'hai da dire. Non gira. Miraviglioso. Eh, c-c-cosa? Ci sono lei. Ehi! Ah, non lo... Ma perché continuo a prendermi questo? Scusami. Sì, buono. Mi piace. Sì, vengo. Perché... No, non lo voglio. Scusami, Gemma. Come si fa a levarmi sto qua? Scusami, eh. Sì, pazienza. Vorrei che si allontanasse da me. Ecco. Oh, ok. Perfetto. Ecco qua, dai! Ecco qua, dai! Ma come cavolo si fa a fare le cose, scusami? No, non lo voglio. no no ti prego lasciami vivere ti prego ti imploro ti prego non uccidermi ti supplico vuole questa ma non vuole fare niente ma scusami ma non va bene allora 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 non riesco a fare le cose ah sì sì l'avevo letta con la cosa che mi hai mandato sì sì l'avevo letta l'avevo letta no ti prego perché non ti vuoi urlare non mi sei urlato no ti prego perché c'hanno tutti i terrore dai vai vai usci questo come no ma come ti prego no ma continuo con la mia cosa ma ce l'aveva ma vari ci andiamo questa collare indissolubile no no tale seguimi vengono a prendersi no andiamo ma com'è uso è ferito ma ma non riesco a far colpo perché c'è un terrore lasciami vivere ti prego ti impiaro andiamo dov'è sta qua che palla ma perché non riesco a fare le cose ah ma non riuscivo a fare dov'è sta la comune ok presta il tuo servizio e pagherai il tuo via no ma il dito che palla però aspetta un po' questo il rituale ok ok vai senti che ha delle meccaniche un po' così però non è brutto giù anzi abbastanza divertente ok ok bye oh non ho sentito nulla di importante guardia ma c'è la maschera perché? no bellissimo ma poi ci provo con la maschera non mi è dispiaciuto è incantevole più di quanto il mio cuore possa sopportare fantastico tutti innamorati questa volta è chiusa la chiave dove siamo? ma è un posto nuovo posto qua urmini tuoi sette acqua di lu... mamma mia che roba chi è questa qua? tu vuoi rischiare vita, organi e altro per partire in cerca dei resti di antiche civiltà perdute? secondo i miei studi questo è un buon punto di partenza ma è un tentativo di omicidio ma è il canotto, è vero ma è il canotto, sì ma andiamo veramente in canotto qua quindi studio e referto informazioni alla fine mi ricerca provato che il primo vanno fatto è un posto nella parte antica della città non è un portiere domani domani qua ci allaghiamo te lo dico nella parte antica della città domani ci allaghiamo ci svegliamo con... ai si vabbè anche qua l'hanno detto che era tutto in siccità sì sì non è vero non è stato in siccità qua cavolo qua dicevano di tutto ma c'è la siccità ma non è vero perché poi dai apri com'è chiusa la chiave che li vedo anche io i tuoni azz ma dov'è la parte antica della città la parte antica della città parte antica della città deve essere qua si è giù a piedi non ho proprio idea dov'è essere la parte antica della città eh la madonna no ebbè sì in effetti in effetti sì 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 troppo debiti giocando nel pub il maestro del gioco potrebbe venire un certo alle autorità no oh no na la parte antica no 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 e rubiamo tutto rubiamo oh no ci uccideranno sono le molto tardi è ora di andare a letto no ho disturbato da qui dove è la signora non voglio morire vai via bambino dobbiamo un assucco di banani qualità ti prego guarda nel tuo cuore il mio cuore il mio cuore c'è qui eccolo qua nel mio cuore c'è qui potevo fare in modo potevo eliminare i bambini ne accoppavo un centino aiuto niente è solo nei giochi questo ti scappa no mi stanno scappando tutti signora fare i limoni oh no tiratemi fuori di qui io ho violato tutto ah ah sei in arresto si vabbè servizio alla comunità oh oh non evitare le tue responsabilità o la pagherai eh no ho capito la parte antica qual è talalda non mi sapisce bene bene capacità eh si è vero confermo posso confermare confermo chi è andiamo a vedere un po' questo punto ok oh vediamo un po' ok c'è lo scultore c'è ok c'è va via non è il testo bancarelle aperte andiamo un po' andiamo dallo scultore magari ci fanno una statua mentre siamo nudi si è mentre siamo in desabili vai 50 euro grande dobbiamo sforzarci per raggiungere una verità emozionale a partire da quella fisica in po' si la tua tecnica è straordinaria fantastico no no hai smesso eh scusa amico si la tua tecnica è straordinaria no fantastico spero che tu possa continuare così tranquillo che statuarietà perfetta ma è il spese malvagio esatto però era nudo ancora un istante sì ancora un istante oh ma che cazzo vuole ma me l'ha detto lei di farlo non fa niente dovrà andar bene il mondo non può più attendere le mie opere ma me l'ha detto lei a tutti la vedrà ma ci ha scritto il gioco ma mi ha detto molla praticamente ma altri soldi la tua tecnica è straordinaria fantastico spero che tu possa continuare così che statuarietà perfetta ah vabbè di nuovo continua non ho mai visto una posa così ancora un istante oh va bene ma io attendo sì riesco già a vedere la statua completa no no spero di no spero di no non lo so ma non ho capito quindi bene hai inondato i miei sensi con la tua posa ora puoi terminarla cosa ha detto posto che l'ho inondata ma non è vero ah ma non è possibile una posa trionfante te no qui cerchiamo lo straordinario e invece tu mi stai dando il banale non fa niente dovrà andar bene il mondo non può più attendere le mie ombre dai dito vergognati premio non ce l'ho fatta questo è per avermi preso in giro racchia ma è immortale ma è invincibile è immortale ma nooo tornerà vai via ci rimane noi ci provo ci provo peccato so mica ricco nelle bucce attenzione qua c'è un cane che è un tesoro io lo voglio qua un momento il fiore potrebbero essere cosa come non è lo civile quella roba lì non mi piace tanto potrebbe avere una cosa brutta tipo matrimonio aspetta cos'è quello ci uccideranno tutti fatto molto bene hai proprio ragione adatta adatta ma c'è un levo e ci sono dei letti ruba ovviamente una bambola di pezza con quelle che faceva il signor ed immagino con con parti speciali bravo bravo hai appena vinto una lampada del signor ed esatto esattamente avete vinto una lampada del signor ed era proprio una brava persona salutava sempre non mi posso portare nella tua capito ma qua mi servono mi sa bravo e onesto se una camicia povera una torta di meri e aranci da che schifo che c'è ma fine del mondo saremo alla fine del mondo aspetta lì c'è qualcosa ma vedere lì però con quanta atto di vandalista facciamo vandalista ma non c'è nessuno ma no pantaloni poveri poi cosa ci abbiamo lo succo di pomodoro diluito guarda di che bocca una spada giocattolo che me ne faccio la spada giocattolo che me ne faccio la spada giocattolo che me ne faccio la spada la spada di gomma non c'è una mazza sì forse c'è qualcosa tante di vestiti forse posso vendere il gabinetico io aspetta naturalmente vendi oggetti vedi una palla di gomma piccolatini e gaia spada giocattolo bambola di pezza una van ma scusate i vestiti vedi i vestiti quanti poveri via credo che sia un buon prezzo è già pronto per i miei scaffali pantaloni è sempre un piacere comprare quello che non vuoi più camicia povera no ma sono i mutande no aspetta abbigliamento no ma non può scusate ma sono nudo ho le braghe e così sono i mutande indumenti bandana da bandito esatto mani partire il corpo pantaloni da bandito piedi sono scalzo come sei senza scalpe niente maschera nooo c'è una fanciulla qua attraente attenzione fermi tutti qua c'è una signorina che vuole vuole ciup ciup no 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 lui no lui bisogna un regalo vieni cosa gli regaliamo alla fanciulla ci regaliamo un collare indissolubile ma è rimasta colpita che dolce facciamo un altro grazie mille sei davvero gentile un altro regalo ci facciamo oh ora non posso si bo dai una torta di mela irancida oh apprezzato vorrai che guardiamo tutti immagino però ha apprezzato però grazie iniziavo a sentire un certo langorino innamorata cosa fa quel signore mamma ero arrabbiata ma ora sto meglio innamorata mi piace oh è tutto così romano ci stai fare proprio non so fare un giudice da dietro allora hai un problema come sapivi che mi piaceva dai vediamo un po' se riesco voglio regalargli le cose nuziali vediamo un po' se oro vediamo un po' d'odore oh cielo wow fantastico innamorata regali profumo anello del magnificante nooo sarà pure gradevole ma poi marcerà si maldito nooo perché anello civile non sarà che così attenzione fermi tutti diamo diamo l'anello meglio non avere nooo prima dobbiamo essere sicuri nooo ma mi ha rifiutato questa qua che schifo poi si permette di rifiutare mi è schifo gli diamo un po' un po' di pomodoro di lui chi è perché quel signore ti ha fatto un regalo sei davvero gentile stare con te è il momento più bello della giornata uuu pazza quindi c'è ancora un assassino a piede libero attenzione perché c'è qualcosa che stona nell'insieme diamo altro regalo per regalo vai diamo collana rucinita un giaietto oh oh grazie Grazie a tutti. 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 Allora... No, no... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo... su...